Buonasera dalla redazione del Tg di TV Prato, lo avete appena sentito dai titoli del nostro sommario. In primo piano questa sera la politica con Matteo Renzi che ha scelto la nostra città per dare il via alla campagna elettorale in vista delle primarie del PD. Riconquisteremo Prato a detto Renzi riferendosi alle prossime elezioni comunali. Vediamo insieme tutti i dettagli nel servizio del collega Dario Zona. L'intervento integrale di Matteo Renzi è stato ripreso dalle telecamere di TV Prato e sarà trasmesso domani sera alle 21.20 e sempre da domani potrete vederlo anche sul nostro sito www.tvprato.it Voltiamo pagina, dolore e costernazione in città per l'atto commesso stamani in due chiese del centro storico dove sono stati gravemente danneggiati due storici crocifissi. Siamo stati colpiti al cuore della fede, ha commentato il vicario Monsignor Mannucci. Vediamo. Il danneggiamento dei due crocifissi rappresenta anche un grave danno per la storia dell'arte pratese. Si tratta infatti di due opere di età diverse fra le più venerate a Prato. Una violenza che lascia senza parole restano solo quelle della condanna di fronte a una violazione così inaccettabile, brutale, meschina. Così commenta l'accaduto l'assessore comunale alla cultura Anna Beltrame. E si celebra oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche Prato ha aderito all'iniziativa Ce ne parla Alice Politano. E rimanendo in tema sono oltre 300 le vittime di violenza familiare che l'anno scorso hanno chiesto aiuto al codice rosa, la task force che vede coinvolte as le forze dell'ordine per fronteggiare il fenomeno. Soltanto 84 le vittime che hanno presentato denuncia. Con una messa in Duomo presieduta dal Vescovo Agostinelli si è concluso ieri l'anno della fede. Apriamoci all'azione di Dio, ha affermato il presule Giacomo Cocchi. Grazie a tutti.